Piacenza ha la guida e il coordinamento di 24 centri a livello nazionale. Sì, l'anno scorso su invito della Società Europea di Cardiologia Piacenza ha sviluppato prima in Italia un progetto pilota per la campagna sulla prevenzione dello scompenso cardiaco. Il progetto è stato molto bello, è piaciuto molto ed è stato premiato dalla Società Europea di Cardiologia l'anno scorso, ad ottobre, come il miglior modello europeo di campagna di prevenzione sullo scompenso cardiaco. Il risultato è che quest'anno la Società Europea di Cardiologia ci ha chiesto di coordinare la campagna nazionale sulla prevenzione. Quindi noi coordineremo 24 città sparse in tutta Italia proponendo il modello che abbiamo sviluppato l'anno scorso, che è un modello che vuole portare i medici fuori dall'ospedale, quindi trasversale, in cui andiamo a incontrare la gente nei luoghi in cui si trova. Lo proporremo e lo riproporremo in 24 città del territorio italiano, augurandoci che dall'anno prossimo questo possa diventare un evento che coinvolge tutte le città d'Italia.